Ciao a tutti, siamo qui per la parte teorica del progetto dell'irrigazione, del video conclusivo su come ho fatto l'impianto di irrigazione. Questo qua è la parte teorica, mi sono fatto dei fogli stampati per farvi vedere un po' il dettaglio e queste immagini le metterò al termine del video anche così se volete vedere i vari componenti con calma eccetera potete fare uno stampo o bloccare il video per vedere un po' il tutto. Allora, avete visto spero i primi due video che sono della parte pratica e vi farò un rapido ripilogo per parlarvi un po' del tutto. Allora, abbiamo detto che abbiamo il pozzo, un classico pozzo artesiano che può avere un diametro anche di un metro, dipende da quello che avete. Dentro il pozzo abbiamo una pompa sommersa e ne esistono due tipologie principalmente questa tipologia e questa. Io ho questa perché questa ha il vantaggio che pesca più in basso quindi si riesce a utilizzare al meglio il pozzo. Questa qui invece ha sempre un leggero margine di pescaggio quindi si perde qualcosina, però dipende da quello che avete, dalla prevalenza del pozzo nel senso da che profondità avete il pozzo perché di solito questa tipologia qua ha una prevalenza maggiore sono anche più potenti, riescono a pompare l'acqua anche da posti che sono magari giù 30, 40, 50 metri e poi sono più strette se avete un pozzo con una camiciatura stretta e avete poco scelta ci vuole questa le pompe sono formite da un galleggiante il galleggiante serve se utilizzato come sicurezza quando non c'è più acqua nel pozzo, quando c'è acqua il galleggiante sta su e la pompa funziona, quando scende giù la pompa si blocca e per evitare che si brucia praticamente è un interruttore on off che funziona con delle sfere dentro e quindi abbiamo le due tipologie di pompa dalla pompa con gli appositi adattatori vedete qui c'è un filetto e qui ce n'è un altro io ho utilizzato uno di questi adattatori qua in polietilene e sono venuto su con un tubo di 32 sono uscito dal pozzo, sono venuto su il mio pozzo è a 6 metri, sono venuto su 6 metri e sono uscito in uscita sono andato dentro un metro cubo e come avete visto nel video ne ho 4 in serie o in parallelo o in serie o indifferente vengono attaccati tutti insieme da rubinetto c'è questo adattatore e poi ho utilizzato un adattatore tipo questo qui con un raccordo maschio maschio da un pollice nel mio caso esco questo da un pollice e li ho collegati insieme una volta collegati insieme quando se ne va a riempire uno si riempiono tutti chiaramente il primo si riempie prima e dopo pian pianino l'acqua passa anche negli altri da questi metri cubi ho collegato una gomma o potete usare anche un tubo rigido tipo questo e vado al filtro i filtri ce ne sono tanti tipi e io ho utilizzato questa tipologia qua che ha l'ingresso da un pollice e l'uscita da un pollice prima ho posizionato una valvola di sicurezza in modo che nel caso dovevo pulire il filtro chiudo o se ci sono delle perdite posso chiudere e questo filtro qui è smontabile si svita la ghiera e si toglie il filtro e si può pulire e ne esistono anche delle versioni che costano chiaramente molto di più sono autopulenti hanno un motorino che adesso non so bene come funzionano che fa passare l'acqua internamente ed esternamente e credo le pulisce il filtro sono autopulenti una volta passata l'acqua dal metro cubo filtrata dal filtro andiamo nella seconda pompa questa qua è una pompa che viene posizionata esternamente è sempre a 230 volt come la prima anche la prima questo impianto le pompe sono alimentate con la corrente la monofase classica a 230 volt e qui entriamo sempre andremo a posizionare andremo a mettere sempre i soliti raccordi entriamo qui entriamo di qui e usciamo allora entriamo qui in questa posizione viene montato un pressostato un pressostato non è nient'altro che un interruttore che legge la pressione del circuito e in base a quanto la impostiamo lui stacca attacca la pompa se lo impostiamo a 3 bar lui quando la pressione del circuito a 3 bar sopra i 3 bar lui stacca quando scende attacca la pompa e pompa acqua e volendo si può inserire un vaso di espansione un autoclave a cosa serve occorre all'uscita della pompa in modo che la pompa non lavori di continuo perché l'autoclave se lo prendiamo che è da 200 a 300 litri lui la pompa va al massimo della sua perché sono pompe variabili diciamo possono andare la mia va da tipo 5 litri al minuto a 80 va magari sempre 80 carica il circuito e poi si stacca e il vaso di espansione compensa la pressione per un tot tempo funziona in pratica per non utilizzare sempre la pompa la utilizziamo solamente nel momento che la pressione scende se abbiamo un goccia a goccia che va magari a un bar ci può tornare utile perché facendo così la pompa viene utilizzata alla massima potenza per meno tempo e non fa non è sempre attaccato fa un tacca e stacca continuo una volta usciti dal vaso d'espansione sempre con il nostro tubo di polietilene e i nostri raccordi varie e se utilizziamo il goccia a goccia occorre un regolatore di pressione un regolatore di pressione non è nient'altro che una valvola regolabile di solito con una chiave a brugola si regola e in base alla terratura che si dà lui tra virgolette strozza la pressione a un bar un bar e mezzo due quello che ci occorre per il nostro circuito così facendo non andiamo a avere una pressione troppo elevata nel goccia a goccia che rischia di far saltare dei raccordi esce troppa acqua eccetera quindi è importante posizionarlo all'uscita del del nostro circuito dopo il vaso di espansione è sempre consigliato posizionare un regolatore di pressione e questo è diciamo sono i particolari che occorrono per fare il quadretto il quadretto che va a gestire sia la pompa sommersa nel pozzo sia la pompa esterna che provvede all'irrigazione qui dopo metto come detto le immagini in fondo che se volete prenderne spunto eccetera queste qua sono immagini che ho preso dagli esperti del materiale che ho comprato io poi le ho potete acquistare da chi volete è indifferente era giusto per darvi un'idea questo qua non è nient'altro che un selettore che possiamo utilizzare per utilizzare la pompa in manuale quindi sempre accesa le due pompe quindi ne sono montate due come avete nel video o in modalità automatica che impostandolo magari in base ai collegamenti che facciamo vengono gestiti da questo time quindi con un selettore magari mettiamo su uno la modalità manuale che funziona sempre sul due mettiamo la modalità che funziona col time questo qua è un contattore un contattore che serve per non sovraccaricare il timer e serve praticamente qui ci passa la tensione di rete e l'amperaggio che serve alla pompa e dal timer non facciamo altro che andare a comandare questo dal timer che funziona a 230 volt come in alimentazione e a una pila a una tripla e che serve per 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 tenerlo alimentato e da qui possiamo impostare dal timer e le varie accensioni e spegnimenti sia della pompa sommersa che va nel pozzo perché se abbiamo un pozzo con poca acqua e vogliamo utilizzarla tutta andiamo a bypassare il galleggiante magari lo attacchiamo in alto che la pompa sia sempre accesa e con questo non so lo facciamo andare due o tre minuti ogni due o tre ore come faccio io così preleviamo tutta l'acqua del pozzo perché altrimenti perderemo l'altezza della pompa perché il galleggiante stacca quindi quell'altezza a cui andiamo a perdere e il contattore come dicevo non serve nient'altro per per far passare la potenza della pompa il contattore non è nient'altro con contatto con una molla in questo caso ha quattro contatti dove faremo passare in uno in uno la fase nell'altro il neutro dopo ci sono tutti i collegamenti spiegati informatevi bene e lui stacca e attacca in base ai comandi che gli darà il time invece questo dispositivo qui è un dispositivo che serve per il troppo pieno dei metri cubi in pratica lui ha un tipo dei dadi dei dadi quello che siano inox che hanno dei fili che entrano qua e lui legge l'altezza dell'acqua ne ha tre in base alle impostazioni che mettiamo lui quando rileva l'acqua che arriva al terzo contatto lui stacca la pompa e mentre quando scende sotto lui l'attiva però nel nostro caso andiamo a comandare col timer e questo qua ci si è avvenientato per il troppo pieno la pompa parte comincia a riempire se legge che il metro cubo è pieno e c'è troppa troppa acqua la pompa non parte se non vogliamo utilizzare questo dispositivo si può utilizzare un un galleggiante ci sono dei galleggianti che possono in base a come vengono collegati possono fare il troppo pieno in modo da che staccano la pompa quando arriva a una certa altezza l'acqua quindi queste sono due alternative o si mette questa io ho messo questa o si può montare questo qua in base alla configurazione che vogliamo fare una volta che usciamo dalla nostra pompa di irrigazione divideremo l'orto il frutteto in diverse zone io nel mio caso ho utilizzato una centralina di irrigazione a 9 volt e io ho della irritro o delle sottomarche comunque sono tutte uguali a questa tipo in base ce ne sono tanti modelli le potete montare anche a 24 volt col suo trasformatore se avete la corrente vicino la corrente la monofase vicina perché li vanno alimentati e sono programmabili hanno un timer hanno diverse possibilità di irrigazione possono essere abilitati manualmente sono molto comodi essendo alimentati 9 volt potete mettere un po' dove volete l'importante è che li proteggete e certi hanno anche il sensore di pioggia che potete montare perché in caso piova loro non partono e questi queste centraline qua vanno a comandare le retrovalvole nel video ho fatto vedere sia solenoide sia le retrovalvole queste qua sono quelle che ho montato io sono le retrovalvole a 9 volt che vengono alimentate dalla centralina e sono delle valvole che si aprono chiudono in base al consenso che dalla centralina molto semplice le potete posizionare chiaramente vanno messe abbastanza vicino alla centralina se no bisogna tirare dei cavi molto lunghi e sono molto comode perché si possono usare anche manualmente quindi hanno questa valvola questa strastinesca verde qua se avrete per chiuderla o metterla in automatico e potete regolare anche la portata da questa vite una volta uscite dalle elettrovalvole si può montare il classico tubo quello in polietilene nero o ad ala gocciolante quindi che ha già i gocciolatori o il diametro 16 grezzo e poi forarlo perforarlo con un perforatore tipo questo che ho fatto vedere nel video e poi si montano i vari gocciolatori vicino alle piante o se avete l'orto potete metterla la gocciolante come siete più comodi io mi trovo bene con questi gocciolatori perché sono regolabili smontabili cioè regolabili nel senso ci sono diversi modelli e poi possono essere puliti con facilità prendendo cioè svitandoli come ho fatto vedere si possono pulire e risultano molto comodi secondo me ne esistono da 8 litri da 6 litri da 3 litri da 4 da 2 adesso non mi ricordo bene da 8 4 e 2 sicuramente io li ho presi qui su Alief costano poco anche il perforatore nient'altro che un pezzo di inox tornito a punta per forare per forare il tutto e nient'altro volevo darvi giusto una piccola infaminatura teorica dopo che vi ho fatto vedere la parte pratica e vi metterò queste immagini in fondo al video così se volete vedere i link volete leggere un po' che materiale utilizzato per prenderne spunto lo potete fare se poi avete qualche domanda mi trovate o nei commenti o potete potete iscrivervi al gruppo di telegram dove potete chiedermi tutto quello che volete questo qua come dicevo un impianto che mi sono fatto io è 3 o 4 anni che funziona io lo alimento con il mio impianto fotovoltaico prendo l'acqua dal pozzo ho il mio accumulo io mi trovo molto bene e sto irrigando tutta la vigna qui tutto l'orto le piante si funziona funziona decisamente bene nient'altro vi ringrazio e alla prossima ciao a tutti ciao 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 ciao